Si riunirà dalle 9.30 l'auditore Undon Bosco in via Melchiorgioia 48, il Consiglio Generale della CIS Lombardia. Cambiare per rappresentare, rappresentare per contrattare il tema della mattinata che vedrà la partecipazione di delegate, delegati e pensionati. Intervengono Gigi Petteni, segretario generale della CIS Lombardia e Raffaele Bonanni, segretario generale della CIS. Intanto dobbiamo fare il punto insieme per rilanciare la nostra azione che ogni giorno cerchiamo di fare nella contrattazione dei luoghi di lavoro, nei confronti con la regione e vogliamo inserirla dentro in un quadro più generale dell'azione sindacale. Per cui oserei dire che facciamo il punto per gettare i ponti della nostra azione nelle prossime settimane per la nostra primavera sindacale. Insomma, prepariamo la primavera della CIS Lombarda.